La passione dopo la delusione Anticipazioni Una vita, trame spagnole, la passione dopo la delusione Una vita, anticipazioni spagnole, Simon ceda le avancese di Elvira La passione scoppierà molto presto per Elvira e Simon ha una vita. Le anticipazioni spagnole della Sop svelano che la svolta per la Valverde e il maggiordomo arriverà proprio quando Arturo scoprirà il bacio tra Rosina e Liberto. Il colonnello sfiderà a duello il fidanzato della figlia, Reo di averla disonorata. Sarà proprio Elvira evitare il peggio. La giovane supplicherà il padre di lasciare stare il nipote di Susanna confessando di aver finto di essere innamorata di questultimo soltanto per evitare un matrimonio combinato. La notizia manderà su tutte le furie Arturo che si sentirà ingannato e deciderà di far seguire giorno e notte la figlia dal suo fido domestico, Simon. . Ignaro del sentimento nato tra Elvira e il maggiordomo, Valverde si sentirà al sicuro. L'avvicinamento tra i due giovani li porterà però a trascorrere una notte di passione. . Ilvira, nelle puntate straniere di Una vita, si concederà a Simon che inizialmente rifiuterà per non disonorarlo. La giovane Valverde riuscirà però a sedurlo. . Ilvira racconterà al padre, che noterà l'assenza della figlia, di essersi svegliata presto per andare in chiesa con Maria Luisa. La figlia di Ramon dovrà subire il terzo grado del colonnello, ma riuscirà a reggere il gioco all'amica. . Una vita, anticipazioni nuove puntate, Simon litiga con Susana. . Le anticipazioni spagnole di Una vita svelano che, dopo le nozze sciocche e il segreto rivelato, Simon dovrà mandare giù una brutta delusione. . Il giovane infatti riuscirà finalmente ad arrivare all'identità della sua madre naturale e confesserà tutto a Susana. . La sarta però sarà molto fredda con il giovane e negherà tutto, sottolineando di avere solo un figlio, Leandro. . Susana ammetterà di aver inviato i santini a Simon, ma solo per carità. . Entrando di nascosto nella stanza del figlio, la sarta ruberà la scatola dei ricordi del giovane e brucerà il contenuto. . . Dopo mille peripezie, negli episodi spagnoli di Una vita, la sarta de Acacias 38 ammetterà a Simon di essere la madre, ma non contenta di ciò lo umilierà. . La donna infatti confesserà di non averlo mai voluto e di non voler instaurare nessun rapporto con lui. . . Susana sottolineerà di considerare come suo unico figlio Leandro. . Simon resterà senza parole e deciderà di chiudere ogni rapporto con la donna dopo la delusione provata. . Cosa nasconde veramente il passato di Susana, ma soprattutto chi è il vero padre di Simon?. . . . . Grazie a tutti.